I soldi non fanno la felicità. Uno dei miti più difficili da estirpare è l'idea della felicità legata al denaro. Daniel Kahneman, premio Nobel 2002 per l'economia, ha dimostrato che il benessere materiale incide molto poco sulla percezione reale della felicità. Disporre di più denaro non aumenta la moment by moment happiness, cioè i singoli momenti di felicità. Che il denaro sia la fonte della felicità è falso per il semplice fatto che crea pagamento momentaneo. Dà una sensazione di sicurezza, di soddisfazione, di euforia, ma non vera felicità. Una recente meta-analisi del 2020 ha dimostrato che il centro di ricompensa del cervello viene attivato dal sesso, dal buon cibo e dallo stimolo denaro, e che tutti e tre vengono processati dalla stessa area del cervello, i gangli basali. Infatti è sufficiente fantasticare su una grossa vincita di denaro per sentire subito sicurezza, pagamento, consolazione e gratificazione. Tutto ciò non può essere definito in alcun modo felicità. Conosci il paradosso di Easterlin? Seguimi e cerca il video nel mio profilo. Al tuo benessere.